allora adesso vi parlo di un libro di un libro che è intitolato nel silenzio dell'eremo sette giorni per trovare la pace interiore qualcuno potrebbe pensare ma come sette giorni per trovare la pace interiore così poco il tempo beh se leggete questo libro magari impiegando sette giorni cominciamo a dare valore è più che mai ai numeri scoprirete come la storia di enrica bortolazzi sia una storia buona e di valore e grande importante per tutti noi ben arrivata ben arrivata cara grazie allora eccoci qua questo questo è il libro il in dialogo con i monaci di camaldoli stiamo stiamo parlando dell'eremo di camaldoli di quel luogo straordinario ma non devo parlare io deve parlare lei giornalista che insieme al dottor franco berrino che è stato già nostro ospite già direttore del dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'istituto tumori di milano ha fondato l'associazione la grande via per promuovere la salute e il benessere mi fermo e che cosa è successo per iniziare a scrivere questo libro da dove è partita la storia la storia è partita in circa sette anni fa e quindi il numero 7 sicuramente di nuovo e partita sette anni fa perché sono capitata per caso in quelle aree in quella zona del casentino che io non conoscevo siamo vicini ad arezzo in provincia di arezzo anche argentino in provincia di arezzo ho incontrato un monaco perché ho sentito che avevo voglia di parlare di un mio problema di quel momento e questo monaco mi ha detto di fare un percorso mi ha detto sento che tu devi andare in india sento che devi trovare una persona importante eccetera eccetera per cui questa sarà la strada perché questa persona chi era era un monaco e mi suggeriva la persona da incontrare mi suggeriva in realtà una monaca ma io allora non lo sapevo ancora e quindi mi ha suggerito questo questo incontro importante in india io premetto che sono sempre andata in india comunque ma lui questo non lo poteva sapere in quel momento quindi mi ha consigliato questo viaggio e consigliato l'incontro con questa persona perché ha detto nel nostro tempo e nel nostro mondo c'è molto bisogno di essere di creare dei posti di luce dei posti di consapevolezza dove le persone possono stare meglio guarire sentirsi meglio con la propria consapevolezza e quindi dice questo sarà il tuo il tuo ruolo e allora va in india incontra questa persona però non mi ha detto nessun indirizzo e quindi ci sono state una serie di coincidenze per cui poi alla fine questa donna l'ho incontrata in un ashram dei monaci camaldolesi perché i monaci camaldolesi sono in italia ma sono anche in brasile sono anche in america sono anche in india e quindi per un per un giro lungo che è passato è partito da camaldoli è passato dall'india ed è ritornato a camaldoli io sono ritornata a camaldoli e quindi abbiamo fondato questa abbiamo fondato qualche anno prima questa associazione con il dottor berrino e lì è diventata la nostra casa per cui c'è un luogo lì vicino a camaldoli perché per intenderci rica è una giornalista molto brava perché il grande dono della sintesi io invece le chiedo di somigliare un po di più a me che ce l'ho di meno il dono della sintesi ma vado così curiosamente in fondo alle cose è il mio lavoro partita da camaldoli perché c'era bisogno di incontrare questo questo monaco sentito il suggerimento di andare in india non ci vai subito ma ci vai in un altro momento per altre strade per altre vie e incontri esattamente questa persona della quale non sapevi nient'altro che l'esistenza dopodiché il nome non c'era non c'era nessun indirizzo tanto è vero che il monaco quando poi glielo comunicato mi ha detto le vie del signore non hanno bisogno di indirizzi quindi non avevo dubbi che tu la potessi trovare non c'era bisogno perché io ero in qualche modo orgogliosa di averla trovata anche senza nessun riferimento abbassare l'orgoglio questa è un'altra grande lezione esatto e quindi mi ha detto e questo è stato il primo insegnamento quindi camaldoli india camaldoli perché questa donna indiana questa monaca indiana mi ha detto che questo era la missione questo doveva essere fatto anche lei ha suggerito che in questi tempi di questo ci fosse bisogno e dice vai nella zona dice non so se tu conosci bene quella zona perché io non la conoscevo di fatto quasi per nulla nella zona di camaldoli troverai un luogo che effettivamente poi è accaduto è singolare come cosa è molto particolare la bellezza è la bellezza di questa storia è la bellezza di questo libro che cos'è la grande via la grande via un'associazione che abbiamo ritenuto di dover fondare appunto io il dottor berrino per diffondere un messaggio anche di speranza un messaggio di speranza perché la via sono le tre vie noi riteniamo che l'essere umano si segue in qualche modo tutte queste tre via riesca ad essere in bilanciamento e a stare decisamente meglio anche quindi la via del cibo con un'alimentazione corretta la via del movimento fisico che consiste anche in una semplice camminata quotidiana e la via della spiritualità che è molto importante ognuna delle tre vie messe insieme all'altra per noi è una grande importanza e questo lo sperimentiamo lo facciamo sperimentare anche le persone io ricordo camaldoli arezzo siamo vicini ad arezzo fondata mille anni fa da san romualdo è una comunità di monaci benedittini guardate che meraviglia le sue due case sono il sacro eremo e il monastero ora questa settimana settimana che da no i sette giorni danno il titolo al libro sono state sono stati vissuti a camaldoli perché perché venivo da un periodo abbastanza difficile era morta una carissima amica avevo bisogno di ricomporre i pezzi della mia vita avevo bisogno di comprendere che cosa fossero davvero le priorità le cose che valevano la pena e quindi e quindi ho sentito il bisogno di scappare è stato nel dicembre dello scorso anno di scappare da tutte le luci del natale da tutto questo clamore e di isolarmi e quindi sono stata con i monaci sette giorni non c'era non c'era nessuno c'erano solo i monaci perché non è un periodo in cui camaldoli ospita colga e quindi il silenzio a volte anche scritto era assordante perché dalla vita quotidiana insomma abbastanza movimentata devo dire che quel silenzio arrivare come è come arrivare in un punto in cui tutto ha un sapore diverso si amplifica anche il tempo perché non c'erano al di là di di quando io ho tra l'altro parlato con questi con questi sette monaci perché ne ho incontrati sette al di là di quando parlavo con loro che era per breve tempo tutto il resto era totalmente in silenzio dai pasti alle celebrazioni chiaramente liturgiche ogni ogni momento era scandito dal silenzio questo silenzio abbiamo visto poco fa un'immagine di camaldoli innevata sotto la neve questo silenzio aiuta ad ascoltare anche il proprio respiro nel senso che il respiro è importante non solo perché viviamo perché respiriamo ma intendo dire che l'ascolto di noi stessi in un luogo di altissima fede di altissima spiritualità come questo ci dà il cambio di marcia lo dà quel valore in più secondo me assolutamente sì perché il respiro è come se tanto è vero che anche la celebrazione è molto lenta ogni parola all'inizio mi sembrava tutto abbiamo avuto qualche primo istante di smarrimento perché era tutto rallentato il respiro in mezzo alle parole della liturgia cioè c'era un tempo che si dilatava e io non sono abituata al tempo ho un tempo più accelerato e poi ho superato invece questo è il secondo giorno fino al secondo giorno quasi pensato di scappare e poi mi sono imposta invece di rimanere guardare e allora questo silenzio ha cambiato ha cambiato completamente la sua struttura e quindi è diventato prezioso è diventato un modo per guardarmi dentro per capire tantissime cose che non avevo voluto vedere anche in passato perché noi scappiamo noi non vogliamo stare nel silenzio perché ci riempiamo di lumore per non vedere per non vedere ciò che non ci piace per non sentire delle nostalgie per non e allora e allora facciamo sì che tutto sia sempre in movimento e invece lì c'era un arresto come se ci fosse una battuta d'arresto e un silenzio e questi gesti codificati da mille anni per cui questi monaci che in realtà potevano essere miei coetanei cioè non erano persone così diverse eppure erano così profondamente diverse perché ogni giorno ripetevano con un senso profondo ripetevano ripetevano dei gesti uguali ecco anche questo noi cerchiamo ogni giorno di fare qualche cosa che in qualche modo ci rende la vita meno noiosa e lì invece era la ripetizione assoluta e quella ripetizione assoluta ti lascia è bellissimo quello che Enrica dice dopo un iniziale ma io dico quasi umana necessità di dire no io scappo perché perché non ho più non per questo parlavo di respiro è come se fossimo obbligati a perdonate il paragone una volta c'erano i dischi 33 giri e 45 giri se tu sbagliavi la levetta il disco non suonava come come doveva come avrebbe dovuto suonare non ce la faceva allora magari noi abbiamo questa necessità questo bisogno disperato di accelerazione ecco poiché questo libro ci tengo a dirlo questo ci tengo a sottolinearlo è un libro di valore perché è un libro che contiene una storia assolutamente vera non è un manuale di leggete questo libro fate così per sette giorni starete meglio è un invito ci tengo a dirlo questa è il racconto di un'esperienza che la mia viene anche molto da lontano perché io sempre molto viaggiato e ho sempre cercato in tutti i posti del mondo anche delle 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 forme di devozione avevo questa curiosità e quindi ho molto viaggiato per poi ritornare in realtà molto vicina a dove a quello che sono le nostre tradizioni quello che questo è stato un passaggio molto importante però non è un manuale fai da te ognuno deve passare attraverso le sue esperienze e deve vivere quello che nel silenzio di ognuno c'è il racconto davvero cioè se uno riuscisse a stare per un tempo che non è necessario forse nemmeno andare in un eremo ma prendersi del tempo per per guardare dentro se stesso guardare davvero cosa importante e guardare che cosa è il percorso allora come dicono i monaci lo spirito santo può parlare e quindi può raccontare anche la missione della persona ma solo attraverso il silenzio non si passa diversamente nella nostra frenesia nelle nostre corse questo purtroppo non accade Enrica chi volesse intanto leggere il libro primo chi volesse fare questa esperienza per esempio andare a camaldoli che cosa che cosa deve fare l'eremo di camaldoli non in tutti i periodi dell'anno ma accoglie accoglie tranquillamente chi vuole mettersi in un in un contesto molto più raccolto ecco perché è anche il raccoglimento perché poi quello che anche mi ha colpito di questi monaci è quella che loro chiamano la gravitas monastica cioè l'umiltà loro nel libro loro non hanno voluto che io scrivessi i nomi perché non è importante non c'è un io non c'è una definizione così chiara per cui non è importante il nome lo sguardo è sempre basso non c'è l'ostentazione di se stessi ecco e questo secondo me è una prima lezione è una prima lezione che è al di là delle parole perché onestamente a volte non sono state dette delle parole io ho raccontato dei piccoli episodi che mi hanno insegnato probabilmente molto di più delle parole nel senso che sono arrivati dritti cioè non solo l'accoglienza non è arrivato questo questa persona in difficoltà da uno straniero l'unica persona che io ho incontrato in quei giorni e l'ho accompagnato dentro perché non sapevo bene che cosa fare sconnesso sia come parola e ho incontrato il priore il priore l'ha guardato ha compreso in pochi istanti e se ne è preso cura e io la mattina dopo ho visto questa persona che era veramente ma messa aveva problemi era vestita male insomma probabilmente non mangiava da giorni l'ho visto ripulito felice e tranquillo che mangiava con noi ecco questo è l'insegnamento dell'accoglienza che non ha bisogno di tante parole non solo hai appena detto una cosa che pesa come il piombo specie di questi tempi in tutto il mondo accogliere guardare capire restituire dignità e ricominciare a respirare insieme quindi dobbiamo solo cercare camaldoli su internet fate come volete contattate telefonate e chiedere di poter andare a vivere un'esperienza che sarà la nostra non sarà mai uguale a quella di un altro questo credo che sia sì sì ma poi la bellezza è stata che questi sette monaci in qualche modo in quel silenzio profondo in quel clima perché poi l'eremo è praticamente circondato completamente da questi abeti bianchi che sono simbolo per loro di aspirazione verso verso il cielo e quindi ci sono le meravigliose foreste del casentino che mi hanno accolto altrettanto quanto l'eremo e questi monaci hanno sono riusciti a esprimere e a raccontarmi delle cose secondo me di una bellezza profonda perché non parlano ma con non parlano si predilige il silenzio ma con enrica bortolazzi hanno parlato i monaci di camaldoli lettura lettura consigliata questo è il senso ringraziando enrica per essere stata con noi e ci vediamo tra un attimo l'ora solare lasciate le finestre spalancate arriviamo 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 che brava ciao grazie 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 grazie